Questo è il pro player più forte al mondo, si chiama Vynard Gaming, guardate un attimo che skill che c'ha Si trova all'interno di un torneo competitivo, siamo in waterslide e riesce letteralmente a fare il devasto Perché lui stesso si ritiene il più forte al mondo Oh mio Dio è fortissimo E è una bestia incredibile Ma cosa sta facendo? E guarda che scorciatori riesce a fare Va sopra il waterslide, fa degli salti assurdi, non so letteralmente come faccia Vola questo uomo No vecchio ma è assurdo, ma guardalo Arriva primo, dai che ce la fa, per me vince, 100% Ma come fa? Scommetto 20 euro con te che vince No E' primo, il più forte al mondo Intenzione che tanto uno è già arrivato Ma lui vince comunque Se volete diventare forti come lui mi raccomando iscrivetevi al canale